salve amiche e amici ben ritrovati oggi alcune notizie che riguardano i cieli del mediterraneo ed europa poi parleremo dei aggiornamenti per quanto riguarda la situazione al fronte in ucraina alcune novità per quanto riguarda l'aviazione e poi parleremo della condizione femminile in iran perché appunto è una di quelle giornate storiche con una non vi voglio spoilerare ecco mi raccomando prima di iniziare se non l'avete ancora fatto mettete in pausa il video è il momento esatto per farlo per andare a iscrivervi se non l'avete ancora fatto e lasciare un mi piace qui sotto trovate tutti i pulsantini di youtube per sostenermi quindi iniziamo ieri vi avevo parlato della presenza dei b 52 nell'area del mediterraneo ne avevo visto uno che probabilmente aveva attivato il transponder per comunicare anche con l'aviazione civile nel momento in cui andava a transitare su certe rotte commerciali e l'ho visto proprio circolare in quest'area i b 52 sono i bombardieri strategici americani la loro presenza può essere anche dedotta questo lo dico l'ho detto già altre volte può essere dedotta dai questi aerei che sono i classici aereo cisterna questi sono americani e vediamo andare e venire in tutta l'area del mediterraneo orientale meridionale e poi anche per certi voli come questo per esempio questo è un altro aereo cisterna che va e viene dalle basi raff verso ed a per cipro per acrotiri questa è una base della royal air force molto importante per tutte le operazioni del inglesi e dell'europan air group nel mediterraneo orientale in supporto ed a per per l'area del medio oriente quindi mi collego al discorso sulla presenza dei b 52 per parlare anche il fatto che 15 giorni fa e probabilmente è ancora in corso per quello che posso dirvi è una imponente esercitazione in seno alla nato che coinvolge aerei americani aerei italiani di tutta europa queste esercitazioni servono per migliorare le sinergie e le operazioni future congiunte perché insomma questi aeroplani militari devono comunicare fra loro essere coordinati da centri di comando e lavorare insieme la presenza dei b 52 su quest'area ed eventualmente anche nell'europa orientale è molto importante non solo in termini di simbologia e deterrenza ma anche per il loro lavoro di ricerca con il potente radar aria terra che è in grado di rilevare oggetti sul terreno oggetti in movimento e quant'altro quindi anche per esempio il p8 poseidon che vediamo in tempo reale adesso da tutt'oggi pomeriggio fare tutti questi pattern questo è un ricognitore ve lo mostro in questa immagine un ricognitore marittimo equipaggiato con potenti sensori in grado di rilevare anche sottomarini per esempio lanciare delle sonde per poter appunto ascoltare le attività sottomarine ma funge anche a diverse funzioni come centro di comando avanzato e di ascolto in questa immagine per esempio lo vediamo equipaggiato anche con missili antinave insomma è un aereo importante per gli assetti nato e da tre anni quasi è sempre presente in quest'area vola sulla moldovia qui lo vediamo fra l'altro è partito come sempre accade dalle basi in sicilia sigonella che è un'altra base importante per le operazioni americane è nato in particolare allora perché vi ho parlato dei b52 beh perché oggi è comparso su x questo video abbassa un po il volume secondo max il l'autore di questo video max 24 è atterrato in italia ora lancio un appello qualcuno di voi che abita in zona udine o aviano ha sentito particolari plurimotori oggi perché si comunque aviano è una base americana potrebbe tranquillamente atterrare lì però alcuni commenti hanno detto hanno detto che in realtà è possibile che questa sia fireford in inghilterra altri dicono che sia aviano però non ho non ho la possibilità di confermare questo dato potrebbe essere atterrato penso che questo sia in inghilterra onestamente però io posso per quello che posso fare io è confermarvi la presenza dei b52 nell'area del mediterraneo questo questo l'ho visto con i miei occhi ieri quindi passiamo avanti e parla parleremo adesso delle aggiornamenti per quanto riguarda il fronte non ci sono grossi cambiamenti nell'area del kursk dove della regione del kursk dove però c'è una riduzione del controllo ucraino come vedete a nord in questo in quest'area e nel saliente di pressione da parte russa in questi due punti c'è una leggera fluttuazione della presenza ucraina quindi fra ieri e l'altro ieri vediamo che le posizioni ucraina hanno hanno subito una leggera riduzione presso il villaggio di proghebki così come nell'area di novoli novca qui vedete c'è una riduzione del controllo ucraino però lo ripeto sempre qui la situazione è molto dinamica e fra l'altro mi collego a questo anche per mostrarvi ecco scusate devo cancellare questo per mostrarvi appunto le geolocalizzazioni che arrivano proprio da quest'area ecco qui come vedete c'è tantissimi video tantissimi report che parlano di mezzi russi distrutti btr bmp tutti questi sono mezzi d'assalto russi che contenevano uomini giusto ieri è segnalato un airstrike da parte russa e questi sono dei btr distrutti questi sono dei cararmati che stanno avanzando quindi fate caso al numero enorme di report che arrivano da queste zone quello che possiamo dire è che i russi stanno cercando piuttosto disperatamente di riottenere territorio occupato dagli ucraini nella regione di kursk ma i loro assalti vengono continuamente respinti questo è quello che possiamo dire basandoci su queste icone hanno il supporto dell'aviazione vedete airstrike 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 tutto questo è successo ieri quindi sì questa è la situazione passando oltre invece andando a vedere la zona di kalinivska kolisnivska qui in quest'area vediamo che i russi hanno aumentato la zona contesa vedete e fra l'altro anche qui collegandomi alla mappa di mayakosk che ringrazio sempre per la sua disponibilità di aggiornare mettere le concine in base ai report che arrivano attraverso vari canali qui viene riportata la bandiera i russi il 31 anno è stato bandiera vicino all'antenna televisiva di cui vi avevo parlato nei giorni scorsi particolare questo piccolo villaggio perché una settimana fa gli ucraini vi erano entrati e avevano ripulito casa per casa oggi invece viene segnalata la presenza russa segno che si sono ritirati da qui a questa icona il 30 mostra dei afv distrutti in questa posizione l'ultima azione è dell'uno sono delle azioni di artiglieria ucraina spostandoci altrove a circa a molti chilometri più a sud abbiamo l'area di chiasi viar dove ormai le posizioni russe sembrano essere ferme più di una settimana fa avevano raggiunto delle posizioni oltre il fiume come potete vedere qui qui e qui sono riusciti a superare la linea naturale del fiume che per loro era un ostacolo insormontabile è stato un ostacolo insormontabile per mesi ma da questo momento in poi non sembra siano ci siano progressi non si vedono nessun tipo di progresso da parte russa chiasi viar come vedete non ci sono icone non ci sono aggiornamenti se non alcune azioni da parte dronica ieri da parte loro in profondità e dell'artiglieria il 31 in pieno centro a chiasi viar segno che i russi probabilmente vogliono indebolire le retrovie ucraine ma gli ucraini rispondono bakhmut vedete questi sono tutti attacchi dronici nelle retrovie russe per colpire le loro logistiche e i centri di comando spostandoci più a sud l'area di toresk si commenta da sola guardate un po il numero di icone di azioni droniche ucraine questo per ulteriore conferma che gli ucraini qui stanno facendo un ottimo lavoro hanno respinto l'avanzata russa in centro città che ora possono essere facilmente chiusi in una sacca volendo qui il numero di concine che vediamo di report da parte ucraina è impressionante questo significa che i russi stanno soffrendo molto in questa avanzata verso toresk le notizie buone però finiscono qui nell'area di pokrovsk anche se la direttiva principale si è fermata su queste posizioni da parte russa a sud invece stanno ottenendo molto molto territorio e letteralmente quasi incontrastati come vedete se il numero delle icone dei report che arriva da altre parti è massiccio qui vediamo letteralmente un'avanzata sola andata da parte russa dove ottengono territori ogni giorno il 30 il 31 l'uno vedete tutto questo lo hanno ottenuto in tre giorni e quindi è chiaro che al momento stanno facendo molta pressione per raggiungere cura cove e poi anche a sud vedete tutte queste aree sono state facilmente occupate dai russi quindi questa è la situazione al fronte altri aggiornamenti zaporizia è stata attaccata con un attacco dronico da parte russa l'altro ieri vi avevo parlato di una postazione s 300 o 400 russa che era stata colpita in crimea e il grande maya kosk ha posizionato anche l'iconcina del report della foto che vi avevo mostrato che era proprio in prossimità di questi filari e di questi campi quindi è importante questa notizia perché come vedete è sulla estensione più a ovest della crimea per quello che gli stessi 400 poteva coprire come capacità di gittata e capacità radar parliamo di una gittata di questo tipo un po meno scusate un po' esagerato una gittata così di questo tipo di qualcosa come 400 chilometri e quindi se questo cerchio era la capacità dell's 400 adesso è stata annichilita non c'è più questo radar quindi è un'ottima notizia e anche il fatto vedete torno su flight radar per mostrarvi il poseidon dove sta volando quanto è vicino a questa posizione quindi è evidente che questo s 400 non è stato ammutolito sempre per tornare alla mappa di maya kosk vi avevo parlato anche di un centro petrolifero una raffineria che era stata colpita a svetlo grad la geolocalizzazione mostra esattamente il punto in cui il drone ha colpito e a quanto pare tre di questi silos sono stati distrutti un paio di droni sono riusciti a raggiungere l'obiettivo nel caucaso quindi queste sono le notizie per quanto riguarda il fronte vi porto una testimonianza particolare da parte di un soldato russo nell'area di kursk che riguarda i soldati nord coreani ora sentiamo cosa dice dice ci hanno portato 10 soldati coreani per nella nostra nel nostro nel nostro nella nostra foresta dice nel bosco in cui eravamo per per costruire trincee dice che questo soldato abbiamo dato loro delle dei vestiti caldi e del cibo sta parlando il soldato russo dice abbiamo dato del cibo e dei vestiti caldi ai coreani durante l'assalto dalle nostre posizioni i coreani hanno iniziato a sparare contro di noi abbiamo cercato di spiegargli dove sparare in che punto mirare ma penso che loro abbiano colpito due dei nostri a quel punto ho deciso che era meglio arrendermi in quella situazione e ci credo voglio dire sto disgraziato si è trovato in mezzo fra due fuochi uno dalla corea l'altro dalla dall'ucraina ha pensato forse era meglio arrendersi almeno peggio dei due ora questa testimonianza è di un soldato russo da quello che dice jay in kiev che è una fonte piuttosto attendibile però aspetto altre ulteriori conferme per questo fatto che è abbastanza significativo passiamo ad altre notizie riguardano l'aviazione e ci saranno in questi giorni una importante air show in cina la china air show 2024 aerospace exhibition in zuhai che potrà essere se arriveranno video spero di poterli commentare nei prossimi nei prossimi giorni proprio per poter parlare dei loro aeroplani mi aspetto infatti almeno una display del j20 il cosiddetto aereo stelt cinese che è abbastanza discusso come aeroplano oggi è arrivato questo video in cui si vede un sukhoi 57 atterrare in cina e questo insomma è l'arrivo del del famoso sukhoi 57 che fra l'altro piace tanto ai filorussi che lo considerano l'aereo migliore del mondo è un bell'aereo aspettate scusate ok un aereo di linea è un bell'aereo ci mancherebbe da un punto di vista estetico però da un punto di vista di capacità di riduzione della propria firma radar è simile a un f18 americano non è troppo grosso è discutibile un po le tecnologie che possa avere da quello che posso dire io che un po studio queste cose da tanti anni mi ci dedico con passione la mia impressione del suo 57 è che sia semplicemente una evoluzione del suo 27 ha delle capacità migliori del suo 27 da un punto di vista di autonomia velocità se parliamo di supercruise cosa che il suo 27 non aveva e sicuramente ha una avionica migliore del suo 27 però è come un suo 27 extended più nemmeno la sagoma è quella ha delle geometrie per ridurre la propria firma radar però oltre a questo non si può parlare paragonarlo a un f35 o un f22 insomma sono due pianeti proprio molto diversi un divario tecnologico enorme mi aspetto che in questo air show e su 57 faccia le sue classiche evoluzioni che fanno tanto piacere ai filorussi che lo considerano l'aereo migliore del mondo altre notizie di aviazione una rarissima apparizione di un f16 ucraino con classico rumore è un po un video troppo sgranato è un video troppo sgranato per poter parlare di payload ma suppongo che queste siano le classiche taniche per un volo di addestramento quindi non posso dirvi altro di certo gli ucraini non vogliono mostrare troppo l'f16 per una questione che basterebbe semplicemente fare un po di controlli incrociati se ci fossero elementi come palazzi o base per capire dove vengono dislocati questi aeroplani no è un po è un argomento molto sensibile da parte loro quindi cercano di esporli il meno possibile notizia sempre correlata alle armi in dotazione agli aerei ucraini queste sono bombe jdam e r che vengono sono state annunciate fornite dall'australia queste sono bombe volanti infatti hanno queste ali che si aprono dopo il lancio e hanno una guida interna automatica gps e inerziale e sono capaci di penetrare anche in profondità gli obiettivi sono bombe piuttosto tecnologiche diciamo che le bombe volanti non le hanno inventate di sicuro i tedeschi scusate i russi quindi è un'ottima notizia dall'australia questa bomba può essere utilizzata ed è già utilizzata in realtà dai mig 29 ucraini dai su 27 ed è sicuramente nelle capacità del f16 fra l'altro mi collego anche ancora alla mappa per mostrarvi ecco che questi per esempio questi ponti sul fiume seim sono stati colpiti proprio con queste bombe con utilizzando i mig 29 ucraini andiamo avanti allora per finire voglio parlare un attimo della condizione femminile in iran perché insomma anche sul mio canale spesso avendo trattato l'argomento israele che ha fatto i raid contro l'iran perché poi per il resto non mi occupo io del conflitto in corso in israele non centro niente con quella questione ne approfitto però per parlare e sottolineare quanto ci tenga al discorso sulla condizione femminile e mi trovo molto in disaccordo con certe posizioni in italia di alcuni che evidentemente perdono un po di vista quelle qual è la natura della delle dittature e dei fanatismi religiosi in medio oriente perché la condizione femminile è tremenda in quei paesi soprattutto in palestina in iran la condizione femminile è un argomento interessante di cui parlare e che appunto è anche nostra responsabilità affrontare in un certo modo per chi almeno ha dei canali qui su youtube quindi invito tutti sempre alla moderazione a evitare di usare il mio canale per certi slogan in particolare anche perché ci sono stati alcuni commenti che mi hanno lasciato molto perplesso di gente che evidentemente ha il dente avvelenato contro israele in questo momento è un po perde di vista certe 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 cose mi porto giusto questo video che è arrivato oggi dove c'è un israeliano in italia che è andato al mercato e questi fruttivendolo ha reagito così per intenderci iliano io mi vergognerai ma come cazzo fate ancora andrà in giro capito siede la vergogna del mondo tappoggia vattene vattene non tappoggia fammi capire tu hai sentito no 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 io ti ho detto soltanto che sono israeliano e tu adesso butti adesso tu butti tutto il problema del mondo su di me perché questa è la tua guerra proprio su di te sugli israeliani sugli ebrei sugli ebrei aveva ragione poi davvero non ha finito il lavoro perfetto insomma non mi aspetto di sicuro da un fruttivendolo una laurea in geopolitica un'analisi puntuale però certe certe affermazioni fanno pena ora perché me ne sono uscito con questo video oggi perché appunto anche nel mio canale qualcuno è arrivato a definire l'iran come un paese civile dove le donne sono emancipate ora se questo è il livello vi invito a vedere questo video che vi passo in descrizione questa studentessa oggi è stata ripresa dalla polizia morale iraniana perché non indossava correttamente il jab che dovrebbe coprirle i capelli allora non è consentito neanche mostrare i capelli a quel punto la ragazza è letteralmente non ce l'ha fatta più e ha deciso di manifestare così mettendosi in in biancheria lasciandosi in biancheria quindi è una cosa straordinaria io voglio dire il coraggio delle donne iraniane è straordinario non è il primo video che vedo di questo tipo in cui reagiscono il popolo iraniano è veramente super coraggioso perché cerca di contrastare un fanatismo religioso e questa questa ragazza è stata arrestata rischia penso tranquillamente dieci anni di galera e quando poi vanno in galera subiscono i trattamenti più disumani che si possono immaginare per fortuna qualche studente da la inquadrata e ha trasmesso queste immagini perché è molto difficile che escano dall iran e oggi è diventata un'eroina è davvero un simbolo che appunto significa tantissimo e insomma e noi noi abbiamo la responsabilità di documentare questa cosa perché è un argomento attualissimo insomma si commenta da solo voglio dire la cosa uno dei commenti più belli che ho visto a questa ragazza è è stato loro sono le vere femministe cioè sono loro le vere donne che lottano per i diritti umani in medio oriente non di sicuro gli lgbt pro palestina passatemi il termine voglio dire che per carità il popolo palestinese deve essere rappresentato le vittime civili sono una grandissima tragedia è chiaro su questo non ci piove però ripeto questi discorsi non c'entrano niente con le mie analisi militari io la mia sensibilità però mi dice di dover parlare anche delle donne in questi termini quindi perdonate lo sfogo spero non mi abbiate frainteso però questo è quello che volevo dire e con questo è quanto quindi fatemi sapere come sempre nei commenti cosa ne pensate vi auguro una buona serata e un abbraccio alla prossima grazie grazie grazie